Buonasera amici, ebbene sì, si conclude con un bel 3-1 il match San Siro-Milane-Parma, insomma una partita veramente incredibile perché i rossonieri al termine del primo tempo erano in svantaggio, ma nella ripresa hanno ribaltato la partita e ci hanno fatto nuovamente sognare, di conseguenza un risultato che ha permesso al diavolo di arrivare al settimo risultato in Serie A consecutiva. Detto questo io vi saluto e di nuovo e come sempre Forza Milan, un abbraccio da Martina Zoiro, ciao!